Finisce in parità e nessuna delle due squadre onestamente si è mostrata superiore all'altra. Io credo che sia un risultato giusto. Per concludere l'analisi, a te invece che partita è sembrata Luca? È stata una partita combattuta, entrambe le squadre avevano voglia di vincere. Chi ha visto la partita può capire da solo perché non c'è stato il lampo che ha fatto la differenza. Ci resta solo il tempo per ringraziare i telespettatori che sono stati con noi. Un grazie a Luca per avermi affiancato nella telecronaca. È stato un onore, come sempre. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.